Siamo con Stefania Storica, dirigente del Pianoscarano, come dire, salvezza meritata, mangiata assicurata. Certo. Sti ragazzi, quanto contento di questo. Grandi, sono stati grandissimi, mi hanno dato una soddisfazione enorme. Dopo una stagione difficile però. Dopo una stagione, certo, con una squadra giovane come sono, sono stati proprio grandi. E adesso qui nella hall del campo sportivo vediamo pentoloni, piatti. Certo, facciamo un bel pranzo. Il menù, il menù? Pasta, porchetta e patate al forno. Senti, e vabbè, al di là di oggi che c'è da festeggiare questo bellissimo risultato, però la vostra macchina organizzativa spesso fa queste... Certo, certo. Adesso organizzeremo anche un torneo, giovedì e venerdì con i 2000, 2001 e 2002. Si cenerà anche qui tutte le sere, fino a quest'altra settimana, fino alla prossima settimana. Donna, mamma, moglie, dirigente, quanto è duro fa tutto. Tutto, tutto. Quanto c'è di passione? Tanta. Da quanti anni in Piano Scalano? So una ventina, venti anni. Quanti altri ancora? Eh, non lo so ancora quanti, comunque penso di stare tanto insomma qui. Perfetto, grazie Stefania e grazie per quello che fate. Grazie, grazie a te.